Dal 2017 Caltanissette aderisce alle Viede Tesori con le sue bellezze monumentali, paesaggistiche e storiche. Anche quest'anno, nei tre weekend di settembre, cioè il 10 e l'11, il 17 e il 18, il 24 e il 25 settembre, la città verrà coinvolta nella manifestazione di carattere regionale attraverso l'impegno del Comune e di un gruppo di persone che hanno avuto il compito di individuare i luoghi da inserire, e cioè Alicia Bifarella, Luigi Garbato, Michele Mendolia Calella, Aurelia Speziale e Pasquale Carlo Tornatore. Numerosi siti tra Caltanissette e San Cataldo che potranno essere visitati e ammirati secondo tempistiche e modalità che a breve verranno comunicate ai cittadini. Alcuni siti verranno riaperti al pubblico come negli anni precedenti, proponendo però delle novità rispetto al passato, come nuove aree da visitare o opere da scoprire, così come viene coinvolta nuovamente l'Associazione Paesaggi di Mezzo con le sue attività. Altre esperienze invece vengono inserite per la prima volta, come la passeggiata nel quartiere Providenza e poi ancora la Chiesa della Madonna delle Grazie, la Villa Benintende, la Casina dei Gesuiti, persino il Serbatoio dell'Acqua di Monte San Giuliano, ma anche la Casa Museo Spazio Pitta di Lorenzo Ciulla e il piccolo museo del design del Novecento allestito all'interno della Galleria d'Arte Sosta Visiva. La Chiesa delle Anime del Purgatorio con la cripta cemiteriale e la Chiesa di Santa Lucia di San Cataldo saranno visitabili grazie inoltre alla collaborazione dell'Associazione Amico Medico.